Per me la bellezza che faccio la parrucchiera per cui lavoro nell'ambito della moda è un caleidoscopio di immagini ma soprattutto ritrovare il sé in ognuno di noi quindi non è seguire i dettami della moda ma è trovare noi stessi. Per me la bellezza, come ha detto mia mamma, è proprio la bellezza interiore. Secondo me la bellezza è proprio data dai nostri pregi e dai nostri difetti che ci rendono particolari e unici. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS